Io trovo che una ragazza che ha il coraggio di accusare, di denunciare i propri stupratori vada assolutamente sostenuta perché siamo ancora un paese spaccato a metà tra chi crede che l'esposizione di un corpo femminile autorizzi ad abusarne così non è perché la libertà di ciascuno finisce dove comincia il corpo dell'altro quindi lei può disporre del proprio corpo come desidera ma questo non autorizza nessuno ad approfittarsene Ha colpito tutti la giovane età dei protagonisti vittime e carnefici, è un problema che deriva dall'educazione o dall'ambiente sociale? Deriva sicuramente dall'educazione perché la famiglia è appunto la fondamenta della struttura umana ma deriva anche a mio parere dai social, in particolare da TikTok, questa è una generazione che è cresciuta con TikTok quindi è abituata a stare su un palcoscenico ed è anche abituata a non capire più bene il confine tra la realtà e il desiderio la fantasia, il corpo e la terza dimensione dell'altra persona e i desideri dell'altra persona e allora io credo che certo ci scandalizziamo, ne parliamo, però dobbiamo agire, ciascuno deve agire nel suo leggere poesia nelle scuole per esempio e imparare a sognare insieme un mondo nuovo, a pensarlo questo mondo nuovo abituiamo i nostri neuroni a pensare in una maniera diversa, in una maniera continuativa che non sia istantanea, che non sia stare sempre solo su un palcoscenico pensando agli altri come dei nostri spettatori